Abbiamo una partita difficile domani, come tutte le altre, e abbiamo voglia di disputarla in maniera diversa rispetto a come abbiamo fatto nell'ultima gara. Abbiamo le qualità per poterlo fare e cercheremo di farlo contro un avversario in salute che esprime un ottimo calcio e che sulle ali dell'entusiasmo verrà sicuramente per darci fastidio. Ma ripeto, abbiamo tutte le potenzialità per poter fare una grandissima partita perché abbiamo bisogno di fare una grandissima partita. Questa settimana abbiamo avuto, con quella che faremo domani, tre partite nell'arco della settimana, quindi quando si gioca tanto abbiamo fatto degli allenamenti un po' più lunghi con chi ha avuto meno minuti nelle gambe e in generale con tutti quanti si basa tanto a recuperare le energie fisiche, ma soprattutto quelle mentali che sono quelle che determinano poi tutto il resto. Abbiamo provato a fare un recupero con tutta la rosa a disposizione, sia con chi ha giocato sia con chi non ha giocato. Siamo pronti per poter fare una grandissima partita perché sappiamo che domani ci sarà bisogno di fare una grandissima partita per uscire dal campo con un risultato positivo. La partita scorsa ha lasciato qualche strascico sia a livello dei risultati purtroppo e anche a livello di condizione fisica perché arriviamo fuori dell'Ia e Scalera perché venivano già dall'infortunio. Si sono aggiunti Bascia e Marrone che non sono a disposizione della gara. Sabelli sta continuando gli allenamenti per rientrare quanto prima con noi. Spero presto di riuscire a fargli fare anche un 45 minuti in amichevole se riusciremo ad organizzarla nell'arco di breve tempo. Per il resto abbiamo 22 convocati e tutti quanti devono sentirsi nelle condizioni di poter scendere in campo e di dover essere protagonisti in una partita difficile che ci aspetta domani e in cui vogliamo avere un atteggiamento diverso da quello che abbiamo avuto nell'ultima partita perché questa è l'unica cosa che possiamo decidere noi e abbiamo voglia di farlo bene. Dei 22 convocati tutti quanti possono essere errorabili dal primo minuto e mi auguro che tutti, perché ho battuto tanto su questo tasto, si sentano protagonisti della partita di domani perché abbiamo bisogno veramente dell'energia di tutti, di chi inizia, di chi entra e di chi partecipa da bordo campo per battere un avversario che da diversi turni è in serie favorevole, sei, che ha una squadra, un mix tra giovani e meno giovani ma che hanno fatto sempre delle ottime partite in casa e fuori e sicuramente daranno del filo alla torcere anche a noi, però ripeto abbiamo voglia di fare una grandissima partita e di provare ad ottenere il massimo. I numeri voi siete più bravi di me a metterli e io non li metto neanche oggi perché abbiamo giocato anche in queste gare tante volte nell'arco della partita quando giustamente la nostra squadra era presentata con una difesa a tre ma tante volte siamo dovuti scivolare con una difesa a quattro perché gli avversari ci imponevano di farlo. Non mi piace dire i moduli, proveremo a scendere in campo nel modo migliore che è più importante dei moduli perché ci sarà bisogno di una squadra che avrà un atteggiamento importante per portare a casa un risultato importante.